Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Anche questa settimana parliamo di un argomento molto fuori dai radar, però che ci tenevo ad affrontare da diverso tempo, quindi oggi parliamo di misoginia o sessismo interiorizzato. Che cos'è? Insomma, nel corso dei vari Feminist ci siamo concentrati su tantissimi agenti esterni e agenti culturali, sulle dinamiche che portano a una discriminazione sistematica sulle donne e sul mondo femminile, ma non solo ovviamente. Insomma, in generale è l'intero apparato sociale e culturale a costringere la popolazione femminile negli stereotipi di genere fondamentalmente. Possiamo identificarne tantissimi, quelli più storici e riconoscibili sono forse quella da un lato di madre, angelo del focolare, e dall'altro però un altro stereotipo di genere un po' più sottile, un po' più particolare, che è quello della donna forte. Insomma, la donna con gli attributi, che ovviamente segue un modello di macismo tipico dello stereotipo maschile invece. Il primo, infatti, è proprio il più classico degli stereotipi di genere che riguardano le donne. Il secondo, dico che è più sottile perché spesso viene affibbiato a quelle donne che cercano di emanciparsi, di affermare e dimostrare la propria libertà con coraggio e intraprendenza. E spesso, in realtà, queste due figure si possono anche sovrapporre, cioè la donna madre, la donna madre dello stereotipo ovviamente, quella che si occupa della casa, dei figli, del marito, di tutto, ma anche donna lavoratrice, potremmo dire donna intraprendente, donna che fa cose. Quindi che ovviamente sovrapponendosi parliamo di una donna che si occupa sia dell'ambiente domestico e gestisce tutte le relazioni all'interno della famiglia e in più manda avanti la casa. Dall'altro lato è una donna magari anche in carriera che quindi ha un'affermazione anche sul lavoro. Insomma, se noi riconduciamo la donna a questo tipo di stereotipi, che ovviamente ora sto estremizzando anche se siamo nel 2020, però comunque in parte ancora persistono e sono fortemente radicati, ci immaginiamo una donna che se sovrappone questi due stereotipi fa del sacrificio personale la sua arma più tagliente. Questa sorta di donna virtuosa che riesce a gestire tutto a casa, si sobbarca sulle spalle tutto e dall'altro gestisce anche il lavoro e cerca di affermarsi dal punto di vista lavorativo. È da un lato la rappresentazione di tutti i valori che riguardano la femminilità, è una donna estremamente casta o comunque votata a sembrare quell'immagine di perfezione che ogni donna per bene si porta con sé, ma dall'altro lato è anche instancabile, non cede mai e lavora senza mai lamentarsi. Mi rifaccio a questi tipi di stereotipi partendo da alcune considerazioni della mia guida spirituale che come sempre è Simone de Beauvoir. Insomma, questa donna ideale gestisce sia l'ambiente domestico che quello lavorativo. È ammirata da un lato dai propri figli, dal proprio partner e dalla comunità per il suo successo e per la sua industriosità, insomma. Però secondo la de Beauvoir queste lodi, questi premi in riconoscimento non sono altro che fondamentalmente delle esche, che continuano a dire alle donne fondamentalmente che verranno premiate, verranno riconosciute per questo loro enorme sacrificio, insomma che devono sacrificarsi per gli altri senza ricevere molto in cambio. Lavorare instancabilmente anche in casa per avere un vero e proprio luogo di pace per chi la abita, per chi abita l'ambiente domestico. Insomma diventa per tutti i componenti della famiglia un santuario di pace, tranne che per se stessa. In questo sovraccarico di ruoli, mansioni e stereotipi, lo spazio personale di una donna viene annullato o ridotto al minimo indispensabile. Insomma, de Beauvoir ragiona su come in quest'ottica ci sia davvero uno spazio infinitesimale per potersi chiedere che ne è del mio benessere. Questo discorso parte molto alla lontana apparentemente, ma secondo me è abbastanza importante prima fare qualche rapido passo sugli stereotipi di genere per arrivare al discorso della misoginia interiorizzata, perché così si riesce a spiegare tutto in maniera molto più corretta. L'educazione delle donne, anche se ovviamente molto meno che in passato, è in misura meno accentuata che negli anni 50, però ricordatevi bene che non è assolutamente annullato questo tipo di visione, non è cancellato. Continua a far sentire le donne divise tra lo scegliere, se si vuole perseguire un certo tipo di successo e di affermazione lavorativa, o se è il caso o meno di scegliere la famiglia e quindi l'amore, eccetera, eccetera. E per quanto possiamo raccontarci che questi stereotipi siano completamente scomparsi rispetto a una volta, perché ora le donne lavorano, votano e hanno la possibilità di accedere a tutti i settori, in realtà gli stereotipi si sono semplicemente trasformati, si sono adeguati in alcuni casi ai tempi. E pensate solo a quanto i modelli, anche per i bambini, tranne i rarissimi casi, continuano ad essere gli stessi stereotipi di maschietto e di femminuccia, con le femminucce che fanno cose e i maschietti che ne fanno altre. È chiaro che non ovunque, non è distribuito in maniera uniforme geograficamente, bisogna tenere conto di questa cosa, come il fatto che non sia ancora così fortemente sottolineato, ma è comunque presente. E questi preconcetti che ci vengono inculcati fin da bambini, su cosa una donna possa fare o non fare, su cosa una bambina possa essere o non essere, fare o non fare, contribuiscono a creare questi stereotipi relativi ai ruoli di genere. Ed è per questo che una corretta educazione sarebbe molto importante, ma non voglio arrivare lì. Insomma, pensiamo allo stereotipo di genere comunemente affibbiato a una donna nel contemporaneo, magari abbiamo meno l'idea che una donna debba diventare una casalinga, abbiamo meno l'idea che una donna debba stare a casa per forza, anche se in Italia c'è una percentuale di disoccupazione femminile altissima, più del 50%, quindi una donna su due abbondante non lavora. Insomma, una donna deve essere comprensiva, sempre delle ragioni altrui, una persona materna ovviamente, una persona che accudisce, e che quindi si assume tutte le colpe e le responsabilità della crescita dei figli. Deve essere sempre pacifista, perché deve essere colei che invece distribuisce armonia negli ambienti che visita e frequenta. Assertiva, ma non aggressiva, perché ricordiamoci sempre che si possono dire le cose, ma mi raccomando con sobrietà, se no il contenuto dei discorsi non ci interessa. sempre solare, perché se è lunatica o è una giornata no, probabilmente perché ha le mestruazioni, e quindi insomma deve essere ambiziosa, deve essere decisa, dura e combattiva, e in altri casi deve essere decisa, dura, combattiva, esattamente come un uomo, però in più deve essere anche carina, perché se una donna non è anche carina, in questo caso tutto ciò che viene detto prima, fondamentalmente non vale. Ovviamente questi sono stereotipi, ma l'unica cosa certa è che esistono un sacco di idee prefabbricate su cosa sia, o meglio, debba essere una donna. Per esempio deve essere chiaramente bella, perché, e non comincio a caso da questo termine, perché bella in questo caso significa appetibile e desiderabile da un uomo. Pensate a quante donne conosciamo che magari hanno un curriculum eccezionale, sono in una posizione anche di rilievo, sono a capo di qualcosa, ma quanto è più facile attaccarle sul loro aspetto fisico, criticarle perché non ci piace un vestito che indossa, attaccarci a un difetto fisico, un qualcosa che non consideriamo appetibile, elegante, bello, carino, insomma, quello che volete. Insomma, quanto è più facile andare verso queste considerazioni rispetto a criticare o avere opinioni sul proprio curriculum, sulla propria storia, sulle proprie idee, e soprattutto sulle proprie capacità effettive. E ovviamente, siccome nessuna donna può aderire al 100% ad uno stereotipo, perché semplicemente è impossibile, altrimenti probabilmente anche quelle più diligenti e asservite ce la farebbero, sarà sempre colpevole, ogni donna sarà sempre colpevole e quindi preda dell'insulto, della violenza, dell'ingiuria e del mattrattamento. Infatti, la misoginia, che è l'odio radicato nei confronti delle donne, ma non delle donne in generale, nell'idea che si ha di una donna, cosa colpisce? La misoginia colpisce soprattutto il misogino, attraverso la misoginia, colpisce quelle donne che non possono incarnare questo stereotipo ideale a sufficienza. E il problema del perpetrare gli stereotipi di genere è che alle donne viene generalmente, fin dall'infanzia, chiaramente con le dovute eccezioni, insegnato che aderire a questo stereotipo è l'unica idea di donna possibile o le uniche idee, perché ora non c'è più solo donna del focolare, c'è anche donna che fa tutto, è in carriera, ma anche la casa è anche un po' tutto... Ok, questa visione della figura femminile, questo stereotipo di genere, viene insegnato come l'unico comportamento possibile e accettabile e viene assorbito dalle donne interiorizzando una serie di meccanismi e pensieri che sono altrettanto misogini. Infatti l'inserimento in una società che ti delimita i confini in una maniera molto netta, cioè che puoi essere questo, ma se sei anche questo non va bene, se sconfini in qualche modo, ci sono problemi, se hai un tipo di carattere che non è accettabile dal punto di vista femminile, ci si inserisce in tutto questo sistema che fondamentalmente colpisce le donne anche dalle donne e non solo. Insomma, ci sono una serie di donne che inconsapevolmente o consapevolmente sono ovviamente contrarie al femminismo, che questo probabilmente è l'ultimo dei problemi, ma che perpetrano a loro volta dei modelli maschili, una mentalità macista e maschilista e anche atteggiamenti e linguaggi sessisti. Questo fenomeno è quello che viene chiamato misoginia interiorizzata, ma anche sessismo interiorizzato, perché dipende da delle sfumature leggermente diverse tra uno e l'altro, però insomma, misoginia è un termine molto forte, sessismo è un termine forse più accettato collettivamente e che si riferisce a delle azioni specifiche. Pensate a tutte le battute sessiste, al linguaggio violento che viene rivolto contro le donne, la condiscendenza, eccetera. È facile individuarli nelle persone apertamente sessiste, apertamente misogene o che comunque hanno un'idea molto stereotipata della donna, ma spesso invece si nascondono proprio anche in quelle persone che mai considereremmo sessiste o misogene. In primis, le donne. Com'è possibile pensare che le donne odiano le donne? Infatti in questo caso moltissime donne si riscontrano nell'atteggiamento paternalistico, moralista e discriminatorio nei confronti di altre donne o un veicolo per accedere a una posizione di potere. Sono tutti atteggiamenti che dipendono dalla misoginia interiorizzata. Sono donne consapevoli o almeno del loro maschilismo e che chiaramente considerano la parità di genere già raggiunta, in fondo abbiamo il voto e possiamo accedere al lavoro e cos'altro di cos'altro avremmo mai bisogno e intendono chiaramente il femminismo come un movimento contro gli uomini ed è stato analizzato da diversi studi che chiaramente trovate giù nell'infobox come nelle società dove il gap, cioè lo sbilanciamento, la mancanza di parità di genere è più evidente, quindi dove c'è più disparità di genere, insomma, nelle società dove questo gap è più ampio, tanto più è possibile che ci siano donne che presentano questa caratteristica. Dunque fondamentalmente che possiamo paragonare all'omofobia interiorizzata, quei preconcetti che si hanno sulla comunità LGBT, insomma, tanto più un paese è omofobo, tanto più le persone presentano l'omofobia interiorizzata. Ora però, insomma, a parte parlare di cose molto astratte facendo un giro largo, andiamo nel dettaglio. e pensate quante volte avete sentito le vere donne sono, le vere donne hanno, insert qualsiasi cosa, pensate a quelle che dicono le vere donne hanno le curve, le vere donne fanno questo, ecco. Oppure l'altra frase super popolare, io non sono come le altre ragazze, io non sono come le altre donne, cioè quante volte avete sentito queste due frasi? Infatti, cioè, queste due frasi ti mettono bene in luce un aspetto che discrimina altre donne, che considera altre donne inferiori. Infatti, i principali obiettivi del sessismo interiorizzato sono altre donne che vengono percepite come più deboli o differenti, secondo alcune caratteristiche, dalle altre donne. Da alcune donne che le considerano evidentemente inferiori perché non corrispondono al loro ideale di stereotipo di genere. Nel linguaggio di tutti i giorni e nella quotidianità è molto facile che le donne vengano oggettificate ed è facile rivolgersi alle donne molto più che agli uomini con termini dispregiativi o invalidanti, sia da altre donne che da uomini. Pensate anche al tipo di ingiuria che viene rivolto alla donna. Quanti sono i termini che riguardano la sfera sessuale, quindi quando si dà della troia, della puttana, una ragazza, quando magari è semplicemente stronza, quando magari è semplicemente maleducata, però quanto è più facile attaccarla dicendo queste cose. Questo linguaggio è usato esattamente come una forma di invalidazione. Sono termini che vengono usati come una forma di controllo nei confronti di altre donne o delle donne perché riescono a tenere in maniera controllata e molto rigida i ruoli di genere. Insomma, tutte quelle donne che sfidano le norme o sfidano comunque lo stereotipo da un lato oppure tutte quelle donne che invece mettono la propria voce nel contrastare questo tipo di linguaggio e questo tipo di atteggiamento. Pensate solo a quante volte si prova magari a controbattere a una battuta sessista, quante volte magari avete cercato di rispondere a qualcuno che vi ha insultato in una maniera che non era pertinente con il problema e vi siete sentite dire ama come sei difficile, ama non stai neanche al gioco, ama era una battuta, ama ora non si può dire niente, cioè anche questa è una forma invalidante. E infatti sono pratiche che molto comunemente nella nostra vita di tutti i giorni invalidano le persone e perpetuano il sessismo interiorizzato. La lingua e il linguaggio sono strumenti molto potenti per cercare di sottolineare questi stereotipi di genere. Hanno una funzione di moderatore, no? Servono proprio per mantenere anche attraverso il linguaggio lo squilibrio di potere tra i gruppi. Il passaggio è semplice, ovviamente un linguaggio sessista, un linguaggio discriminatorio viene applicato e ovviamente veicolato verso alcune donne per perpetrare lo stigma sociale. Questo linguaggio viene allo stesso tempo interiorizzato da alcune donne che chiaramente non fanno altro poiché perpetrare a loro volta questo stigma sociale e la discriminazione nei confronti di altre donne. Questo fenomeno si chiama oppressione orizzontale ovvero che non colpisce solo il gruppo dominante ovvero gli uomini perché attraverso il linguaggio il genere maschile poi ovviamente non nella sua interezza per fortuna cerca soprattutto di mantenere questo squilibrio di potere questa mancata parità e allo stesso tempo però si chiama proprio orizzontale proprio perché non coinvolge più solo gli uomini coinvolge anche quelle donne che in questo modo pensano di poter accedere al grande non so pantheon di potere riservato solo a alcuni uomini proprio perché hanno adottato le stesse tecniche e lo stesso metodo opprimendo altre donne. Insomma questo è un'invalidazione sistematica che passa attraverso la misoginia interiorizzata. Mi rifaccio come sempre perché penso sia più utile per spiegare i vari concetti a episodi di cronaca di attualità pensate al movimento Me Too nasce ovviamente il movimento da una serie di donne legate al mondo dello spettacolo che hanno deciso di denunciare ricatti sessuali e le violenze subite nel mondo dello spettacolo e del cinema in particolare. Questo atto di potere di alcuni uomini contro alcune donne ha riportato l'attenzione a una forma molto nascosta di sopravfazione. il ricatto sessuale sul luogo di lavoro è una forma devastante di violenza per una donna e penso per qualsiasi persona ma purtroppo è assai diffusa. Infatti in questo caso alcuni uomini hanno sfruttato la propria posizione di potere il loro vantaggio per ottenere prestazioni sessuali da donne in difficoltà o donne che volevano progredire nella propria carriera o donne che semplicemente volevano avere una carriera. Pensate a quanto è stato criticato ospramente il caso Weinstein e quanto sia stato normalizzato da tantissime persone anche da moltissime donne che non hanno assolutamente sostenuto le vittime. L'idea che si può dire comunque di no o potevi dire di no o cedere a dei ricatti sessuali ti rende automaticamente colpevole tanto quanto chi commette la violenza sono parte di una mentalità che non riconosce le dinamiche della sopraffazione ma anzi individua nelle vittime fondamentalmente le vere colpevoli di tutto sollevando ovviamente gran parte della colpa dagli aggressori e quanto si è speso tempo a cercare di giustificare attenuare scavare nelle vite di queste donne cercare di trovare il problema dentro di loro e dentro ciò che hanno fatto senza pensare che queste donne sono state abusate contro il loro volere sfruttando una posizione di potere quante donne invece si sono schierate dalla parte di chi queste vittime le ha violentate infatti la battaglia più dura contro il sessismo interiorizzata è proprio nella psicologia delle donne stesse che devono in primis riconoscere e superare i propri stereotipi di genere e in generale tutti i pregiudizi riguardanti questa cultura paternalistica cioè il senso di colpa che prova una donna vittima di violenza o di molestie è dovuta all'assimilazione psicologica e psichica degli stereotipi del proprio genere compreso quello che la valuta dal punto di vista lavorativo in base alla propria sessualità e in base anche alla potenzialità di risultare attraente per un uomo infatti questo valore che le viene attribuito la riduce a un oggetto sessuale fondamentalmente e questo non viene assolutamente fatto solo dagli uomini né da tutti gli uomini ci tengo a dirlo allo stesso tempo viene invece perpetrato da alcune donne che applicano questo tipo di giudizio prima verso di sé e quindi e poi nei confronti di altre donne inoltre per ricollegarmi anche al ruolo importante che giocano gli stereotipi di genere in questo caso il ruolo sociale che ha la femmina la donna porta loro a credere che la battaglia per la parità al raggiungimento della parità sia poco importante addirittura scomodo fastidioso e inutile tendono a schierarsi più facilmente contro le altre donne e ad appoggiare sempre solo gli uomini anche quando questi hanno palesemente torto opprimono le altre donne da un lato perché magari le considerano più belle quindi più attraenti dal punto di vista sessuale allo stesso tempo criticano invece altre donne proprio perché non aderiscono ai modelli di bellezza ai canoni di bellezza femminile spesso le donne sono le prime responsabili di slut shaming contro le altre coetanee contro le altre amiche contro le altre colleghe contro le altre donne oppure tendono a prevaricare quelle che considerano più deboli sfigate o che non considerano appetibili dal punto di vista sessuale o interessate all'ambito sessuale perché magari non hanno alcun approccio con l'altro sesso oppure perché sono lesbiche e quindi non so hanno qualcosa che evidentemente non piace è chiaro che questo meccanismo di sessismo e misoginia interiorizzata mette in luce un qualcosa di molto sottile da indagare queste sono generalmente donne molto insicure e che vivono in funzione degli uomini costantemente dipendenti dal loro giudizio e infatti il giudizio verso se stesse di queste donne spesso dipende proprio dall'approvazione o meno del genere maschile guardano se stesse esattamente come se le guardassero gli uomini attraverso però degli stereotipi sia maschili che femminili veicolati da questi e in più i media sono i principali responsabili della misoginia interiorizzata perché veicolano e sdoganano anche questo tipo di atteggiamento che attacca le donne e attacca lo stereotipo che si ha della donna infatti quando si tende ed è molto difficile nei media nel cinema nella produzione in generale pensare a una donna forte è molto difficile riuscire a rappresentarle in una maniera corretta perché in mancanza di altri modelli femminili rappresentati pensate solo alla tv italiana eccetera eccetera si tende a rappresentare le donne forti come coloro che rappresentano e racchiudono dentro di sé tutti gli stereotipi del maschio forte del maschio alfa e che tendono a sminuire opprimere ridicolizzare eccetera eccetera le donne che invece non aderiscono a questo tipo di stereotipo di donna forte una donna sicura di sé che non riesce in alcun modo a solidarizzare con le altre che magari non sono persone sicure o hanno una posizione personale molto diversa tratta chi non è come loro cioè come questo stereotipo di donna forte come se non valesse nulla magari le attacca e le sminuisce andrè lo descriveva come il complesso di bocca di rosa e quelle donne che non ricevono la solidarietà delle altre sono più facilmente esposte a discriminazioni e violenza di genere diventando un facilissimo bersaglio che solleva attenua elimina la colpa dai loro aggressori in quanto alla fine non aderendo a questo stereotipo non aderendo all'idea che si ha della donna quindi fondamentalmente questa donna se l'è cercata quindi tutto ciò che le capita se lo merita perché magari ha i suoi gusti le sue scelte sono altre e differiscono da quelle della donna forte stereotipata in maniera maschile oppure semplicemente la sua natura non è questa perché non si può imporre a una persona insicura di diventare sicura da un giorno all'altro pensate anche alle vittime di violenza che questa è una frase che per me è allucinante quanto spesso si sente dire o si legge sui giornali anche ma perché non è andata via ma perché non l'ha mollato perché non è andata via di casa come se fosse davvero tutto così facile no? come se il problema di nuovo non fosse individuare nell'uomo che ha perpetrato violenza su una donna la sua colpa che è chiaro che sia così nessuno è responsabile se non questa persona ma diventa un po' parte della donna perché in fondo non è andata via è rimasta lì non è riuscita a scappare quindi un po' è anche colpa sua cioè se l'è cercata di nuovo pensate a quante donne criticano il modo di vestire di altre donne insomma come se pensare che una donna che si veste in maniera succinta o si veste poco si meriti in fondo di essere aggredita sia verbalmente che fisicamente dagli uomini ma non solo insomma ogni donna che vive in una maniera diversa che si allontana da questo stereotipo o dall'ideale che hanno anche queste donne che vivono la misoginia interiorizzata quotidianamente sono donne fondamentalmente da non rispettare perché ok il sesso ma né troppo poco né troppo perché se no o sei una puttana o sei una suora ok avere personalità ma come va in giro vestita il modo di parlare la gestualità le scelte del modo in cui ci si pone nei confronti degli altri vanno sempre comunque inquadrati in quel paletto che dice ma una signorina ma sei una signorina non devi essere né sboccata né dire quello che pensi non puoi fare gestacci perché ok però insomma il senso comune pensate anche al sex work qualsiasi sia il motivo per cui una donna lavora nella prostituzione in maniera consapevole per quanto possa essere un'azione consapevole nel capitalismo oppure sfruttata e obbligata perché giudichiamo questa donna perché ce la prendiamo con ogni donna che per un motivo o per un altro si prostituisce perché non ce la prendiamo con chi le sfrutta perché non ce la prendiamo con chi usufruisce del servizio che mettono in vendita perché giudichiamo chi utilizza il sesso per pagare le bollette e campare e magari sfamare i figli e magari riuscire ad avere un tetto sopra la testa quanto è più facile invece pensare a quanto fanno schifo quanto noi non agiremmo nello stesso modo quanto va bene tutto ma quello mai ecco perché in fondo si torna sempre lì nei vari stereotipi perché se fai il sesso sei il diavolo perché se non gliela dai è ma perché gliela hai fatta anusare anche se non hai fatto assolutamente nulla perché se rifiuti in avance è ma perché fai la difficile ma cosa vuoi che sia capita a tutte quante volte capita a tutte bellissimo questa è una delle mie frasi preferite se sei attraente per forza sei troia e vieni disumanizzata come se non avessi nient'altro cioè sei solo bella ma quindi automaticamente sei un oggetto e non vali nulla se non sei figa invece sei un cesso e quindi non meriti nessun tipo di dignità se hai un lavoro importante perché hai fatto i pompini giusti o chissà chi si è scopata se non ce l'hai ma in qualche modo sopravvivi evidentemente perché non hai voglia di fare un cazzo è una relazione probabilmente non meriti di stare con la persona con cui stai se sei singola è colpa tua e fondamentalmente sei un disastro perché disonore a te e a tutta la famiglia cazzo hai 30 anni e non ti sei ancora sposata sei finita cioè non vali assolutamente nulla se vuoi figli è perché sei una donna ristretta nei ruoli tradizionali del genere hai l'apertura mentale di una fessura se non ne vuoi invece non sei nemmeno considerabile una donna e fai schifo perché tanto l'orologio biologico prima o poi arriverà come se tutte le tue scelte non fossero scelte consapevoli e se sei etero che palle perché non hai capito come funziona il mondo siamo tutti bisessuali e se sei lesbica è perché fai schifo e se sei bisessuale è perché non hai decisione nella tua vita e se sei bisex sessuale o lesbica è perché ovviamente vuoi fare la ribelle e fai schifo insomma tanto non andrà mai bene cioè come vedete cioè non potremmo mai spuntarla fuori perché ogni cosa che viene attribuita alla donna o ad ogni cosa che fa una donna viene messa sotto uno spettro di analisi molto oggettificante nei confronti di ciò che è e ciò che vuole fare cioè ogni aspetto viene comunque paternalisticamente sempre analizzato perché si fa in un modo e se questa cosa tu la fai in un modo diverso non va bene e ora si apre un punto abbastanza controverso che spero venga presa nella maniera corretta anche nell'ambito della comunità lgbt questo è un problema che non viene mai posto a sufficienza cioè il sessismo e la misoginia interiorizzata per questo è molto frequente che vengano individuate alcune ragazze lesbiche o alcune ragazze di orientamento sessuale non eterosessuale o identità di genere diversa da quella cisgender che diventano in qualche modo meritevoli di essere prese in giro perché non soddisfano in qualche modo l'idea soprattutto di una parte della comunità lgbt prevalentemente omosessuale e lo dico ovviamente perché secondo me di queste cose bisogna sempre discuterne insomma visto che queste donne non rientrano in questa idea stereotipata di femminilità e da un lato non ricercano l'attenzione maschile automaticamente non sono degne di alcuna dignità e vengono escluse vengono silenziate vengono messe in secondo piano non risultano interessanti la misoginia e il maschilismo che in tanti casi non riguarda solo la comunità omosessuale ma riguarda anche in alcuni casi la comunità lesbica non sono affatto due fenomeni assenti nella comunità lgbt sull'independent è apparso diverso tempo fa questo articolo del giornalista dichiaratamente omosessuale jamie teberer che ha messo sotto accusa grazie a questo articolo le molteplici sottili sfumature di sessismo proprie degli uomini gay infatti invita la comunità soprattutto gli uomini omosessuali maschi omosessuali a riconoscere di avere un problema di misoginia infatti nell'articolo si cita che sono disgustati e spaventati dalla femminilità a meno che non sia neutralizzata resa uno scherzo una valvola di sfogo nella forma di uno show televisivo infatti fa un esempio di cose accettabili nella comunità quali sono le problematiche interne infatti dice si riferisce ovviamente a RuPaul Drag Race e a tante invece icone pop femminili che because from Marlene to Madonna to Ariana we love ourselves a diva cioè noi amiamo da Marlene a Madonna Ariana Lady Gaga amiamo quelle dive ci vediamo come quelle dive until they're no longer perfect cioè finché non sono più perfette quindi anche quest'idea dove insomma bisogna essere così fa l'esempio diretto di Lady Gaga Lady Gaga amatissima tutta la community quando uscì Art Pop col fatto che è stato un disco non troppo apprezzato e da lì in poi la sua carriera è cambiata drasticamente non è più stata solo rivolta al pop dance spettacolare come la comunità l'abbia abbandonata però insomma questo era solo uno spunto per cercare di integrare la discussione anche da questi punti di vista insomma il sessismo in generale tornando invece alle donne perché questo è soprattutto un video dedicato alle donne in generale pensiamo a quelle donne che odiano le donne tendenzialmente lo fanno per motivi molto diversi dalla misoginia maschile ovvero perché alcune donne che loro odiano non sopportano e denigrano probabilmente aderiscono e incarnano gli stereotipi del genere che loro invece hanno rifiutato infatti luisa moraro scrisse ritengo che una donna possa odiare una propria simile quando questa la rimanda a un'immagine avvilita del suo sesso al punto da farle desiderare di non essere una donna la misoginia interiorizzata non si riferisce direttamente e apertamente a una credenza dell'inferiorità del genere femminile e delle donne si riferisce ai sottoprodotti di questa visione della società che fa vergognare mettere in dubbio le donne e sottovalutare se stessi e gli altri in base al proprio genere si può manifestare nel più femminista e consapevole di noi ed è qualcosa di molto insidioso permette ad alcune donne di perpetrare l'oppressione che hanno subito e che abbiamo subito per secoli senza alcuno sforzo da parte di nessuno di bloccare questo fenomeno perché fondamentalmente da un lato continua a contribuire alla disparità di genere e dall'altro crea semplicemente nuove sacche da colpire per riuscire a ritagliarsi un minimo di spazio all'interno di non si sa cosa infatti essere diffidenti verso qualsiasi forma di sessismo ci permette di metterlo in discussione piuttosto che prendere i suoi messaggi solo come un valore nominale e ben distinguibili anzi queste sono pratiche molto più difficili che noi dobbiamo decodificare ecco in fondo un elenco di alcuni fenomeni che possiamo insomma individuare nella nostra vita quotidiana che ci permettono di riflettere su che cosa sia il sessismo e la misoginia interiorizzata e quanto sia più internalizzato e frequente di quanto pensiamo in fondo la misoginia e il sessismo interiorizzato sono delle risposte a una società dannosa e sbilanciata è una risposta naturale fondamentalmente infatti ci tengo sempre a sottolineare nei percorsi del Feminist Friday che insomma non significa che se tu una volta nella vita o se tu per tutta la tua vita hai applicato certe dinamiche sei una persona cattiva il significato più ampio anche di questi video invece è riflettere cercare di decodificare capire ciò che ci succede nel quotidiano tutti i giorni in rare eccezioni ci può essere capitato una volta nella vita come mai magari capita a qualcuno vicino a noi ecco come riuscire a capire questi fenomeni comprenderli e poi lavorare su noi stessi per poter migliorare per evitare di perpetrare questo tipo di atteggiamento anche in futuro personalmente anche io stessa sono stata un veicolo di misoginia interiorizzata ho detto e pensato un sacco di cose cattive ho detto e pensato un sacco di cose misogine soprattutto quando ero a liceo ma anche in fasi molto più avanzate della mia età perché non mi rendevo conto e non mi sono mai resa conto di quanto fosse problematico il mio pensiero causava ovviamente ulteriore oppressione verso qualcun altro che io consideravo diversa e quindi inaccettabile per me oppure non riuscivo ad accettare alcuni di questi stereotipi parto sempre dall'analisi personale perché credo che nessuno nasca imparato ma tutti possiamo imparare ci vuole davvero un po' di tempo energia e anche risolutezza nel riuscire a comprendere e distaccarsi da questo tipo di mentalità insomma per sfidare il sistema culturale che ovviamente opprime e non crea parità dobbiamo essere disposti a riconoscere come questo abbia influenzato sia i nostri pensieri che le nostre azioni quindi insomma per lasciarvi con un po' di ottimismo che mi contraddistingue sempre voglio soffermarmi su alcune pratiche che possono essere utili a tutti e che anche io ho iniziato ad adottare quando mi sono resa conto di cosa stavo facendo da un lato dimostrare un po' più orgoglio per alcune caratteristiche che storicamente vengono attribuite al femminile o vengono intese come femminile senza provare vergogna allo stesso tempo l'esatto contrario cercare di eliminare lo stereotipo che è ficcato nella nostra testa se ci spingiamo in tutti i modi a conformarci all'idea e all'ideale irraggiungibile di donna che non può corrispondere in alcun modo né a noi né alla nostra natura perché ognuno di noi è fatto in una maniera diversa ognuno di noi ha un carattere diverso e delle esperienze diverse cerchiamo di non perpetrare uno standard di violenza sui nostri corpi ovvero cercare di raggiungere in maniera inavvicinabile gli standard di bellezza imposti dalla società perché stiamo infliggendo al nostro corpo un processo violento un processo innaturale insomma pensate quanto le donne vengono chiamate secondo lo stereotipo di genere noi dovremmo essere tutte sensibili però non troppo perché se siamo troppo sensibili poi siamo chiamate irrazionali quindi a volte quando agiamo attraverso caratteristiche o strumenti che vengono considerate dallo stereotipo maschile ci sentiamo come se stessimo reprimendo le vere noi stesse ma sia il pensare che la sensibilità sia solo da associare alle donne come esattamente il contrario cioè che la freddezza magari la freddezza e il distacco siano applicabili solo agli uomini e non alle donne sono idee che si basano da un lato sulla misoginia e dall'altro sugli stereotipi di genere pensate se le lacrime insomma il dolore il pianto fossero associate agli uomini sarebbe probabilmente considerato un segno di coraggio invece per ora rimaniamo soli irrazionali se piangiamo quindi insomma anche vedere questi aspetti che sono tendenzialmente associati alla femminilità tradizionale dobbiamo cercare di riconsiderare il modo in cui vengono visti dalla società perché noi stesse dobbiamo capire la dignità di ogni propensione ogni sentimento se ci troviamo a voler agire secondo modi ed emozioni che attribuiamo al maschile o alla mascolinità per ragioni diverse dal voler esprimere noi stessi e la nostra natura è da un lato molto comprensibile ma può esprimere una misoginia latente nascosta radici misogine in fondo perché come dicevo prima diventa solo un modo per dimostrarsi vicine alle modalità dominanti e ritagliarsi il proprio spazio insomma ovviamente quando dico propria natura non penso che nessun genere abbia una natura ma fondamentalmente la natura di ogni persona è qualcosa secondo me che esiste insomma ogni persona è naturalmente più inclina ad alcuni sentimenti ad alcuni modi di espressione non è chiaramente legato al genere però penso che ognuno possa riconoscere indagare la propria natura ad esempio mi considero una persona molto molto irruente alcune volte non mi considero una persona particolarmente accorta e sensibile anche se ad esempio sono una persona molto empatica cioè ognuno di noi sa che cos'è e non è che è qualcosa che deriva dallo stereotipo di genere è qualcosa che è dentro di noi e che dobbiamo cercare di comprendere e capire e questo questa nostra natura può differire da quella di qualcun altro chiaramente il mio invito infatti è quello di è quello di ragionare ogni tanto su come agiamo e perché agiamo in un determinato modo insomma in un mondo ideale io penso che la propensione di ogni persona la natura di ogni persona dovrebbe svilupparsi senza obblighi o influenzata da agenti esterni come sono gli stereotipi attribuiti ai ruoli di genere però allo stesso tempo viviamo nel mondo reale e non possiamo esserne immuni al 100% altra cosa che secondo me è molto utile è smettere di guardare le altre donne dall'alto al basso anche se sono un metro e mezzo però mi è capitato è capitato a tutti perché il primo passo quando ci consideriamo una rara eccezione nel nostro genere come se fossimo diverse da tutte le altre insomma quando pensiamo magari che noi siamo più focalizzate su alcune cose mentre le altre sono focalizzate magari su roba estetica che noi consideriamo frivola oppure noi pensiamo di essere più giuste perché non so qualsiasi cosa mentre le altre sono quelle che non lo so non vogliono figli perché non vogliono figli ma come sono la disgrazia del cielo o allo stesso tempo perché vuoi questa maternità cosa devi combattere questo stereotipo insomma quando noi non riconosciamo il valore della storia di ogni singola persona e non ne riconosciamo il rispetto che la storia di questa persona merita è come se non conoscendo la loro storia critichiamo implicitamente il loro modo di essere e quindi noi stesse e insultiamo tutte le donne e quindi fondamentalmente noi stesse intanto che noi consideriamo noi stesse o solo alcune donne selezionate da non si sa quale insomma concorso a premi come l'eccezione del genere come qualcosa che merita rispetto perché non è come le altre donne ma le altre quindi invece non lo meritano non cambieremo le regole e nemmeno adeguandosi a un modello maschile per evitare di essere giudicate criticate o tacciate di irrazionalità e di qualsiasi altro difetto può avere la femminilità insomma se per conquistare i nostri spazi dobbiamo farlo discriminando altre donne da un lato e per farlo abbiamo bisogno di riprodurre il modello che porta e che ha creato questa disparità la risposta è per me non è così che bisogna fare ecco io fondamentalmente volevo invitarvi soprattutto a riflettere su quante cose noi diciamo e facciamo che discriminano altre donne quindi siamo noi stesse il veicolo di disparità all'interno del nostro genere io odio quella frase dove le prime nemiche delle donne sono le donne perché non è vero le prime nemiche delle donne rimangono comunque coloro che hanno creato questa disparità e non sono le donne e chiaramente nel corso del tempo le donne hanno dovuto cercare di sopravvivere all'interno di questo mondo che non è dominato dall'uguaglianza di genere e l'hanno fatto cercando degli escamotage che chiaramente però hanno semplicemente perpetrato un modello discriminatorio in questo caso donne contro altre donne per poter avere un tipo di spazio oppure semplicemente avere riconoscimento dal corrispettivo maschile ecco è interessante secondo me questo aspetto e io spero davvero che questo video possa avervi insomma coinvolto interessato e insomma vi invito davvero a ragionare tanto su quante cose possiamo aver detto fatto tutti noi nel nostro quotidiano che hanno sicuramente discriminato altre donne poi ci tengo a dire io non penso assolutamente che le donne facciano tutto giusto anzi non è assolutamente così però cercate di capire quante volte è stata una critica riguardo alla natura di una persona riguardo al modo di fare una persona quello che avete rivolto verso una donna oppure proprio perché ci sono incompatibili compatibilità concrete cioè da un lato è chiaro che è possibile che non si vada d'accordo con altre donne per una serie di motivi però allo stesso tempo se riusciamo in qualche modo a distaccarci a eliminare questo ruolo di genere che ci dobbiamo portare addosso perché lo perpetriamo sull'altro o lo vediamo su altri e lo detestiamo però innescando dei meccanismi che sono ancora più discriminatori ecco qua entra in gioco il problema niente io spero di essere stata abbastanza chiara se avete domande ovviamente ci sentiamo giù nell'infobox e direi che per oggi è tutto e noi ci vediamo per il prossimo Feminist Friday fra qualche settimana per tutto il resto al prossimo video ciao ciao